Buonasera, questo video per illustrarvi una operazione di trading che ho appena concluso sul mercato italiano, il nostro Future Fuzzimib, oggi pomeriggio, martedì 27 settembre. Tale operazione è stata fatta nell'intraday grazie all'indicatore Confluence, che è un indicatore proprietario di mia creazione, ma disponibile anche eventualmente per chi ne facesse richiesta in abbonamento, le informazioni si trovano sul mio sito internet www.strategieditrading.it. L'indicatore Confluence viene rappresentato da degli istogrammi verticali che vengono posizionati nella parte inferiore di un grafico e possono assumere tre tipi di colorazione, colorazione rossa per indicare le posizioni short, una eventuale, qui non si vede ma ci sono le eventuali posizioni long con una colorazione verde e infine una colorazione gialla per indicare invece posizioni flat, quindi non posizioni o meglio la chiusura delle precedenti posizioni long o short che siano, quindi tre colorazioni verde, rossa e gialla per indicare le tre tipi di posizione. Che cosa è successo questo pomeriggio? È successo che alle ore 17 e 20 alle 5 e 20 l'indicatore Confluence da giallo è diventato rosso, quindi mi indica la convenienza di aprire una posizione short, cosa che vado a fare subito in apertura della candela successiva sul livello 20.965. Da quel momento effettivamente il mercato comincia a scendere, anzi accelera al ribasso, io rimango sempre in posizione perché l'indicatore Confluence di 5 minuti in 5 minuti, questo è il time frame che utilizzo, si conferma sempre rosso e quindi mi conferma la bontà di mantenermi in posizione ribassista, cosa che avviene fino alle ore 18 e 40, quando l'indicatore Confluence da rosso mi diventa giallo, quindi mi indica la convenienza invece di chiudere l'operazione short, cosa che vado a fare subito in apertura della candela successiva sul livello e 20.715. Quindi un'operazione durata un'ora e venti circa, dove l'indicatore Confluence mi ha permesso di individuare in modo molto chiaro, preciso e corretto il trend ribassista che c'è stato in questo periodo di tempo nell'intraday e mi ha permesso di chiudere l'operazione con 250 punti di guadagno che corrisponde in euro a 1250, quindi 1250 euro, un ottimo risultato ovviamente lordo da commissioni e capital gain e Tobin Tax. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading.